Ma comprereste un'auto usata da Silvio Berlusconi? Affidereste i vostri figli a Beppe Grillo? Io no, io dico basta ai miliardari in politica e il 25 di maggio le elezioni dobbiamo vincerle e per vincerle dobbiamo suonarle a Grillo e a Berlusconi. Solo così si cambia verso, solo così l'Europa è utile. Grazie a tutti.